Un giorno un gruppo di giocattoli stanchi di bambini capricciosi e viziati decisero di scioperare. Scapparono dalle case in cui non si sentivano apprezzati e si ritrovarono sotto un ospedale in cui c'erano tanti bambini. Anche se siamo di plastica noi abbiamo bisogno di amore, gridò Cicciobello a tutti gli altri giocattoli. Sì, il mio padrone ieri mi ha smontato tutto e si è messo a giocare con lo smartphone, protestava Spider-Man. «Vedete se vi dico bugie, non trovo più la mia gamba sinistra, non posso più arrambicarmi sui muri e non mi danno nemmeno la pensione». «E che dovrei dire io?» replicò un cavalluccio rosso. «Nonostante i sacrifici dello zio per comprarmi, Geppino, non gioca più con me da anni. Sono rimasto abbandonato in una soffitta uvita, mi sono venuti i dolori rovati e sto pure tutto accatarrato. Passo le giornate da solo a leggere questi libri di favole che nessuno legge più, abbandonati su questo scaffale arrugginito». «Ora basta!» concluse Gigro Bo D'Acciaio, che si chiamava D'Acciaio anche se era di gomma. «Da oggi in poi lo decidiamo noi con quali bambini giocare. Io sono un giocattolo che sta senza bambino da tre anni, non posso più svolgere le mie funzioni primarie, mi spetta l'accompagnamento. Voi pensate che non abbiamo un'anima?» «Invece sì, noi giocattoli siamo sensibili». «Hanno ragione, perché guardate, un giocattolo senza bambino è un giocattolo che soffre, tale e quale ai bambini che non hanno giocattoli». E perciò, allora, lo dico anche ai grandi, lasciate un giocattolo in sospeso per i bimbi che hanno tanto amore e pochi soldi. Perché un giocattolo sospeso è come il caffè, la pizza. Napoli è la città dei sospesi. Qua tutto è sospeso, non solo i cantieri. Napoli è la città dell'amore sospeso. Noi napoletani riusciamo ad amare anche chi non conosciamo. Si chiama amore per persona da nominare. A Natale regaliamo amore e distribuiamo gentilezza. E ricordiamoci che a Napoli ogni giorno nasce un bambino che non ha nulla. Ci sono migliaia di Gesù, di Gesù bambino nella nostra città. Qui è sempre Natale, va bene? Certo, se Babbo Natale ci portava pure lo scudetto quest'anno, con un regalo solo, erano contenti tutti i bambini, ricchi e poveri. Ma siccome abbiamo perso pure in caso con Bologna, dobbiamo trovare un'altra soluzione. Basta poco. Siamo in tanti, perché lo sapete che è poco, moltiplicato per tanto, fa l'infinito. Grazie.